Who's the master in game? It's video game Darling Who has the coolest name? It's video game Porta, entra Un scecchiotto Ecco, Mike, Steph, Drew Chloe Hey, you made it Hey, Chloe Ciao Come va il braccio? Hey How's the arm, Mikey? I wish it was the other one So I could draw and stuff Other than that, it's just Broken Sweet hair, by the way I bet you could pull off Sailor Mercury Thanks Any news about Rachel? Her mom seemed hopeful How she could hurt? You'll think I'm joking when I tell you But I'm not Why? What happened? Rachel was Stabbed I Damon And Mary Yeah That's not funny Shit You're serious? Fuck that guy It wasn't because of me Was it? We have our problems Oh, no We've got our own set of problems with him That's crazy The whole thing makes me want to just I swear If I ever meet that shithead I'm gonna What? What are you gonna do when you meet Damon there? Something Terrible Uh huh I am Like Speed of the karaoke Challenge him to a karaoke battle? Yeah, that's how we settle things on the street, huh? Okay Throw dice at him Criticize his taste in film Okay Tell him about a band he's probably never heard of Enough Anyway We're glad Rachel's okay You should hang out here until she wakes up Rachel's gonna be up soon Should probably head over when I'm ready Sì Sì Posso rimanere un po' qui anche perché devo esplorare tutta la stanza io L'avagnetta Scommento che le infermiere di Mikey saranno felicissime Leggi Operazione Cyborg Esposizione all'uranio Morso di drago Il motivo del ricovero Farmaci Pozione curativa Sei fagioni magici Un bacio di una donna bellissima Medico curante Dottor Bill Anderson No pain Little pain No pain But red pain Worst pain possible behind a table Allora Bigliettino guarda Vuoi essere scritto qualcosa di gentile? Che novità! Non posso fare altro che sentirmi responsabile. Ho già iniziato a cercare dei nuovi addetti alla sicurezza. Se c'è qualcosa che posso fare per farti sentire più assicuro al tuo ritorno, ti prego di farmelo sapere. Cordiali saluti, preside Ray Wells. Lettera. Tino, guarda. Mikey vuole scriversi a un concorso del fumetto? Spero che vinca. Caro Michael, ottime notizie. Sono riuscito a ottenere un'estensione per la tua partecipazione al concorso del fumetto di Cascade Head. Credo che i tuoi supereroi siano i portavoce perfetti per la salvaguardia degli oceani. Riposati, guarisci presto, signora Cole. Forte. Qui c'è Drew che sta digitando qualcosa al telefono. Qua c'è Steph a cui possiamo parlare. Guardiamo l'orsetto, sì, guardiamo l'orsetto. Carina, dai. Allora, vabbè, ora si può parlare a Mikey. Ecco, guardiamo i fiori. Oh, mi sa che questi sono da parte dei genitori di Steph. Firma il gesso. Braccio, armatura. Armatura. Ecco qui. Dunque. Ah, libri di scuola. Guarda. Ah, me hanno. Sono persi i robot. Compiti di geometria. Leggere capitoli 14-15 e fare esercizi. Pagina 300. Ah, vabbè, per mercoledì. I nostri robot fanno schifo. Deve aiutarci. Possiamo portarteli domani. Allora, guardiamo se guardate tutto. Parliamo con Mikey. No, prima parliamo con Steph e Drew. Aspetta, guarda. Steph e Drew non stanno lasciando Mikey's side. È fortunato di avere loro. Parliamo. Is your shirt a fire cone? Uh, sure. Why not? That's one of my favorite spells. From our tabletop game. You're thinking about tabletop right now? Why, of course. I had to hide our game from the nurse. She thinks it's negatively affecting my mood. Elemon's backed himself into a pretty tight spot this time. He might not make it. Wait a sec. Harve the elf barbarian. She can join Elemon in battle. Maybe the two of us together could actually make it out alive. Wait. You're into this nerd shit too? Uh, huh. Io dico, certo. It's a game where I win if I make a crazy shit and act like a badass. So, yes. I hate to be such a game master about it, but I'm pretty sure Chloe's character died last time. Ah. Oh, yeah. Oh. Wait a sec. Didn't you have that anklet of reincarnation in your inventory? Uh, huh. Yeah. What? I totally did have that thing. Holy shit. You can actually swoop in and save my ass. What do you say? Certo. You gotta save Elemon. Right? Grazie a tutti.